Posti letto quasi tutti occupati, ospedali che rischiano di collassare e medici che scarseggiano una situazione molto seria, quella che vede sotto la lente di ingrandimento i nosocomi e la sanità campana. In corso in queste ore contatti a livello nazionale per l'ipotesi di allestire ambulatori. Si tratta di temde per il tre triage, un'esperienza fatta già in altre regioni, grazie anche all'esercito. Il nodo da sciogliere non sono soltanto i posti letto quanto il personale specialistico che manca. In Campania sono pronte un centinaio di unità di terapia subintensiva e rianimazione già allestite, 10 ad Agropoli, 55 nei moduli dell'ospedale del mare, altre nei covid center prefabbricati di Caserta e Salerno, che non possono funzionare però in assenza di specialisti. De Luca nelle ultime ore ha chiesto al premier Conte 600 medici e 800 infermieri. Una strada sbarrata fino a quando i neolaureati non saranno iscritti all'ordine dei medici la possibilità di poter prendere a lavorare degli iscritti a medicina. La professoressa Anna Maria Colau ai nostri microfoni fa il punto della situazione e spiega. Il secondo policlinico si sta lavorando alla cremente per cercare di dare una risposta a tutti i pazienti che in questo momento sono in ambasce per la loro salute e per la salute dei loro cari. Questa epidemia sta creando grandi e complesse difficoltà dovute al fatto che dobbiamo occuparci non solo dei pazienti che in questo momento hanno un'infezione in atto e hanno sintomi da infezioni da coronavirus, ma anche di tutti gli altri malati che non devono essere abbandonati, non devono essere lasciati soli. Il personale medico, paramedico, anche tutta la struttura sta lavorando alla cremente per non lasciare nessuno indietro. Noi ce la metteremo tutta, anche all'utenza io chiedo di darci una mano. chi non ha urgenza o emergenza lascia il posto agli altri. Personalmente attraverso anche tutti i volontari del campus salute cercherò di organizzare anche degli ambulatori gratuiti per tutti coloro che pur avendo dei problemi non sono considerati problemi di urgenza e quindi non potrebbero in questo momento accedere alla struttura e in questo caso cercherò di dare il massimo del supporto intervenendo a titolo completamente gratuito con i miei collaboratori. E speriamo che questa situazione di disagio e di allarme finisca presto.